Ora ti fidi? Mi hai portato un passo più vicino al mio amore. È un buon inizio. Chi è quest'amore che continui a nominare? La creatura più bella che esista. Con un viso così incantevole che guardandolo ci si dimentica di tutti gli altri. Forse l'hai sentita nominare? Afrodite. Non credevo fossi un poeta. È la sua bellezza ispirarmi. Farò tutto il possibile per riportarti da lei. Hai la mia parola. Mi hai dato qualcosa che non avevo da tempo. La speranza. Bene. Ora che si fa? Non qui. Vieni al mio accampamento alle rovine di Giappeto. Prima che tu vada, Persephone ha sovrintendenti e torce di ipno in tutto l'Elysio. Se vogliamo indebolirla, dobbiamo distruggerle. E ci servirà tutto l'aiuto di cui potremo disporre. E' ora di incontrare la famigerata Persephone. Persephone. Allora. Allora. Grazie.